Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma. Non aggiornata di Serie D, girone F, si affrontano Trastevere e Monte Giorgio. La finta per far fuori Bertogli è bravo, anzi era Crescenzo, attenzione recupera Alonzi che si proietta in area di rigore, Alonzi, Alonzi dentro, verso Crescenzo! La sblocca subito il Trastevere al secondo minuto, quinto gol in campionato per Daniele Crescenzo, 1-0. Sguardo in avanti e lancio lungo, attenzione ad Alonzi, Perini fa buona guardia, raccoglie tutto De Costanzo che vuole calciare, De Costanzo! Forconesi riesce in due tempi a bloccare, Alonzi prova a giocarla in mezzo a due, non riesce ad andare via, poi sbatte sull'avversario Crescenzo. E' in fuorigioco Bertogli che si disinteressa, Crescenzo allora va al cross, il pallone arriva, De Costanzo appena rientrato in campo non riesce a ribadire in rete. Tutto pronto, Zancocchi alza un braccio a chiamare uno schema, arriva il sinistro, ancora sul secondo palo, vuole fare la torre, è un giocatore, poi c'è Diop, pallone ancora vivo in area di rigore, alla fine la girata. Poi il lancio di Alex Misin, è catturato dal Trastevere, Bertoldi dopo il tocco di Massimo, dentro per Tortolano, posizione regolare, può andare all'uno contro uno, Tortolano pesa il tiro, giro! Gol pazzesco di Tortolano, un gol da Cineteca, è 2-0 Trastevere, che invenzione del Folletto! Ismail a Diop, la sposta sul destro, si arrende, poi su Crescenzo che va a inseguire la sfera, sparacchiata via da Baraboglia, ancora Crescenzo, Alonzi, posizione regolare, Alonzi in area di rigore, no! Si alza la bandierina, tutto fermo, era il 3-0 del Trastevere, ma nello scacchiere della Montegiorgio, la rimessa del Trastevere che sta giocando, lo porto l'1-2 con Tortolano, poi Alonzi in area di rigore, ne ha due addosso, si gira! Mette il pallone al centro, poi di prima per Pempe Pai, attenzione al numero 9, 1-1 con Santovito, la finta rientra sul Mancino, va a calciare, Semprini, il miracolo! Il destro che spiove, tutti a vuoto, poi due a terra, ma si continua, il pallone raccolto, al limite dell'area di rigore, dentro De Angelis, poi il tentativo, ancora Semprini, col pallone che è sul fondo! Però a partire il pallone ancora del Montegiorgio, Cardoni, Cardoni ancora, limite dell'area, pensa al Mancino che va, traversa sulla deviazione di Semprini, un altro miracolo del portiere di casa, sulla conclusione di Karim Cardoni! Dare tutto in questo finale per accorciare il risultato, deve segnare due gol per pareggiare, Cardoni dentro con deviazione, il pallone passa e finisce in porta! Forse deviazione decisiva di Antichi, allora due a uno, Antichi, Marini, Largo Cardoni, vuole andare al cross, invece l'uno contro uno, arriva adesso il cross, deviazione, esce Semprini, la traversa, ancora Antichi, colpo di destra e poi allontanato il pallone! C'è Tencoran da quella parte, il pallone di ritorno, ancora per Cardoni, vuole aprire il sinistro, doppia deviazione, Semprini, e poi il gol del pari, ma si alza la bandierina, è fuori gioco! Tutti nell'area di Semprini, il destro dell'estremo difensore sul secondo palo, esce Semprini e la fa sua! Eroico Semprini, finisce qui, vince il Trastevere, che vince due a uno con le reti di Crescenzo e la rete stratosferica di Tortolano, a cui aveva risposto Antichi nel secondo tempo e alla fine di una ripresa pazzesca, dagli animi caldissimi, il Trastevere porta a casa il terzo successo consecutivo, confermando il trend in casa in cui non perde mai.